A Genova Bucci e Crivello si preparano al ballottaggio. Primo avversario da battere, l'astensionismo, i candidati alla città metropolitana consapevoli della vastità del territorio e delle competenze. Alla luce delle preferenze e dei voti raccolti, prende forma la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Chiavari. L'assetto definitivo sarà deciso dall'esito del ballottaggio del 25 giugno. Mai firmare subito, chiamare un familiare e se si tema una truffa, chiamare il 112. I consigli agli anziani per evitare raggiri nella vendita di prodotti e servizi. Dal Vangelo conosciuto al Vangelo vissuto, l'insegnamento di Sant'Antonio da Padova, messa del Vescovo nel santuario di Via San Francesco a Chiavari. I tesori nascosti di Rapallo, svelati dalla consulta del volontariato. Oltre una quarantina di associazioni hanno animato la festa sul lungomare e questa sera speciale si può dare di più su Telepace 1. Buongiorno ai telespettatori del TG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Ancora i temi legati alle elezioni in apertura del nostro telegiornale. Oggi volgendo lo sguardo però anche a Genova. Per il capoluogo Liguri infatti si profila una sfida al ballottaggio tra i due grandi schieramenti politici di centro-destra e centro-sinistra. L'elezione del nuovo sindaco interessa da vicino anche il territorio del Tiguglio. Il primo cittadino genovese sarà infatti anche il nuovo sindaco della città metropolitana con competenze sul territorio, quali le infrastrutture e i trasporti. Sentiamo. Per Genova quella del 25 giugno è una sfida tra centro-destra e centro-sinistra. Da un lato il candidato Marco Bucci che al primo turno ha ottenuto 88.781 voti pari al 38,8%. Bucci, 57enne, nato a Genova e laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e farmacia e amministratore unico di Liguria Digitale, società informatica controllata dalla regione Liguria. L'altro candidato al ballottaggio è Giovanni Crivello che al primo turno ha ottenuto 76.407 voti pari al 33,39%. Crivello, 64enne, nato a Genova, diplomato infermiere professionale e attualmente assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, protezione civile e rapporti con i municipi della giunta del sindaco Marco Doria. Il primo avversario da battere per entrambi è l'astensionismo. L'affluenza del 48,39% di domenica scorsa è stata così commentata dai due antagonisti. Dimostra ancora una cosa che abbiamo percepito parlando con le persone, cioè la mancanza di fiducia. Molta gente non ha più fiducia, è talmente demoralizzata da questi vent'anni di declino per cui non ha più fiducia che le cose possono cambiare. Quindi ci sono le condizioni per rilanciare Genova. È chiaro che serve che la gente torni a votare, eserciti una delle azioni più importanti democratiche. Se questo non è avvenuto è una responsabilità complessiva. Il futuro primo cittadino di Genova sarà anche il sindaco della città metropolitana con competenze riguardanti tutto il territorio dell'ex provincia di Genova. Compito che trova preparati entrambi gli avversari al ballottaggio con l'intento di avere sempre più a cuore anche territori come quello del Levante decentrati rispetto Genova. Ho idea di cosa vuol dire la città metropolitana, ho idea di tutte queste cose. Capisco che certi comuni si sentono un po' dagli altri fuori. È una cosa che cercheremo di evitare. Io penso che dobbiamo fare un bel lavoro per la città metropolitana anche se, per parlarci proprio chiaro, la corrente legislazione non ci fa partire secondo me col piede giusto, però se ci mettiamo a lavorare assieme come una squadra secondo me potremo fare grandi cose e risolvere parecchi problemi. Io penso che l'aspetto fondamentale, se sono eletto, è quello di fare squadra. Indipendentemente mi creda dai colori. Pur tra mille difficoltà, mi è chiaro, lo dico con i piedi ancorati alla terra, pur tra mille difficoltà, intraprendere una serie di progetti, prospettive insieme alla città metropolitana. Io penso ai grandi temi della manutenzione, delle strade, dell'assetto idroecologico. Sono questioni che si possono affrontare, si devono affrontare insieme indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione. E anche a Chiavari la tensione è puntata su domenica 25 giugno quando al ballottaggio sono chiamati a sfidarsi il sindaco uscente Roberto Levaggi che al primo turno ha raggiunto il 38,31% dei voti e Marco Di Capua secondo al 31,97%. Quasi mille i voti di differenza che separano i due concorrenti che dovranno fare i conti però anche al ballottaggio con l'incognita astensionismo. Intanto alla luce dello spoglio delle preferenze prende forma la possibile composizione del nuovo Consiglio Comunale con alcuni punti fermi tra i consiglieri che siederanno in aula e altri che cambieranno a seconda dell'esito del secondo turno. Vediamo. Dieci nomi sicuri a meno di dimissioni legate a futuri incarichi da assessore e altri sei il cui destino dipende dall'esito del ballottaggio il prossimo 25 giugno a seconda della vittoria di uno dei due candidati in corsa Roberto Levaggi o Marco Di Capua. È lo scenario che si prefigura per la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Chiavari alla luce dello scrutinio conclusosi nelle prime ore della mattinata di ieri. Partendo dai punti fermi sicuramente tra i banchi della minoranza dell'Aula Consigliare di Palazzo Bianco siederanno i due candidati sindaco che non hanno avuto accesso al ballottaggio Giorgio Canepa di partecipativa e Lino Cama per il Partito Democratico. Gli altri consiglieri certi che entreranno in Consiglio sono i due sfidanti al ballottaggio che si porteranno come dote fissa altri tre consiglieri che in caso di sconfitta completeranno l'organico della minoranza e in caso di vittoria saranno integrati da altri sei consiglieri. Quindi con Roberto Levaggi entreranno sicuramente in Consiglio Comunale i consiglieri della lista Noi di Chiavari, Silvia Garibaldi e Daniela Colombo e Sandro Garibaldi per la lista Chiavari sempre al centro. A questi, se l'ex sindaco risultasse il vincente al secondo turno, si aggiungerebbero Marco Rocca, Alex Molinari, Paolo Boggiano, Renzo Prato per Noi di Chiavari, Nicola Orecchia per Chiavari al centro, Maria Stella Mignone per Forza Italia e Giorgio Roncisvalle per la Lega Nord. Con Marco Di Capua entrano in Consiglio Comunale sicuramente Alberto Corticelli e Davide Cesaretti della lista Marco Di Capua sindaco e Gianluca Ratto della lista Avanti Chiavari. In caso di vittoria al ballottaggio di Di Capua, a questi si aggiungerebbero Federico Messuti, Luca Ghigeri, Alice Galli e Rosanna Tanfani per la lista del sindaco Antonio Segalerba, Paolo Garibaldi e Claudio Abrignole per la lista Avanti Chiavari. A decidere le formazioni saranno dunque i chiaveresi, chiamati nuovamente alle urne domenica 25 giugno per il ballottaggio. Vediamo adesso la cronaca. Non cessano le segnalazioni di tentativi di truffa ai danni degli anziani. Succede molto di frequente che persone sconosciute suonino alla porta per proporre la vendita di contratti o prodotti legati ai servizi. In alcuni casi si tratta di un'attività lecita, ma occorre comunque fare grande attenzione e vagliare ogni proposta con l'aiuto di un familiare o di una persona di fiducia. Mai firmare subito, ma prendere tempo. Questo è uno dei consigli. Sentiamo gli altri. Se suonano alla nostra porta e ci propongono l'acquisto di un nuovo contratto per la fornitura di luce o gas o di un prodotto legato a questi servizi, ci sono due possibilità. La prima è che si tratti di un impostore, un falso addetto che tenta invece di truffare nella stragrande maggioranza dei casi una persona anziana. Il consiglio è semplice, non far entrare in casa nessuno. Hanno il cartellino falso, hanno qualche indumento che li può ricondurre ad una società, pongono in essere una truffa chiedendo alla persona anziana l'accesso al domicilio. Per l'accesso al domicilio che poi porta a una vera e propria truffa, qualche volta a reatti predatori come i furti. Dare una telefonata al numero unico per l'emergenza è il consiglio migliore? Assolutamente sì. La chiarezza, chiarire apertamente e serenamente l'intenzione di non farlo entrare in casa e chiamare subito il 112, che è una pratica che in più di un caso ci ha permesso di identificare, e questo è una cosa che è successa la settimana scorsa, il soggetto che cerca di proporre a persone anziane determinati prodotti. Più complesso il secondo caso, quando cioè alla nostra porta si presenta l'addetto di una società di vendita di prodotti assolutamente leciti. Qui bisogna stare attenti perché i casi in cui non fidarsi sono due. Quando cioè ci viene detto che siamo obbligati per legge ad acquistare un certo strumento, oppure quando il prodotto ha un prezzo che ci sembra un po' troppo alto. Quello che può essere il mio personale consiglio agli anziani è questo, è quello di intanto sapere che non esiste nessun obbligo di relazione con i soggetti, quindi la possibilità di accedere a una trattativa contrattuale è una facoltà che all'individuo, ma non è assolutamente obbligato. E una seconda cosa che mi sento di dire alle persone anziane è di fare rete, cioè di non vivere quando hai superato gli 80 anni di età, può essere anche molto bello non vivere da solo una relazione contrattuale, ma cercare di fare ponte con le persone di fiducia. Sul piano civilistico una situazione del genere potrà essere vagliata dal legale di fiducia che potrà suggerire istituti come la rescissione del contratto per eccessiva onerosità. Sul piano penale potrà essere invece valutata dal pubblico ministero, dal magistrato competente per una situazione del genere, la sussistenza degli artifici e dei raggiri che vanno ad integrare il reato di truffa. La proprietà della società gli scogli SRL, realtà che sta portando avanti l'intervento urbanistico nell'area di Preli a Chiavari, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Genova, nel quale si riassume la corretta legittimità del procedimento amministrativo all'interno del quale la stessa sta operando. Questo in risposta alle notizie riportate dalla stampa e dalla rete di presunte irregolarità denunciate da anonimi cittadini. La pagina ecclesiale adesso, un invito a verificare con attenzione la coerenza delle proprie esistenze con il Vangelo. Il Vescovo lo ha formulato questa mattina, celebrando a Chiavari la memoria di Sant'Antonio da Padova. Sentiamo. Insigne predicatore e povero tra i poveri. Con queste due immagini il Vescovo Alberto Tanasini ha descritto la figura di Sant'Antonio questa mattina, celebrando la messa nel santuario di Via San Francesco a Chiavari, intitolato Al Santo. L'aspetto della predicazione è stato messo in luce sulla scia delle esortazioni di Papa Francesco ad annunciare il Vangelo in modo nuovo, un impegno che Sant'Antonio visse fino in fondo nella consapevolezza del fatto che non è tanto l'arte oratoria a smuovere i cuori, quanto l'affidamento allo Spirito Santo. Lui sapeva solo una cosa, seguire Gesù, amarlo con tutto se stesso. Solo per caso, lo diciamo tra virgolette, per caso, ma secondo il disegno di Dio. Fu chiamato con poca speranza a predicare durante una celebrazione. quando sembrava non ci fosse nessuno e quindi potesse essere lui, l'ultimo, a dire qualcosa. E si rivelò come il grande maestro, il grande evangelizzatore. Nella sua predicazione Sant'Antonio aveva un'unica preoccupazione, che il Vangelo conosciuto diventasse vita e in questo modo sapeva intervenire senza timore nella vita sociale. Di qui l'invito da parte del pastore della Diocesi a porsi oggi la domanda sulla coerenza della propria esistenza. Ognuno di noi, come avveniva ai tempi di Antonio, è chiamato dunque a fare una verifica di se stesso e a dire ma io vivo il Vangelo, ma lo vivo sul serio il Vangelo. La parola del Signore è davvero la mia guida. I comandamenti del Signore sono davvero la luce del mio cammino? Ecco questa verifica, penso, Sant'Antonio di Padova ce la chiede, se davvero vogliamo rendergli onore. E questo pomeriggio al Santuario Chiaverese la Messa sarà celebrata anche alle 18 e alle 21. Alle 17 ricordiamo l'affidamento dei bambini al Santo, la benedizione dei gigli e la processione per le vie della città. In serata alle 21.30 a concerto del Duomission Nadia Solari all'Organo e Claudio Monteverde alla Tromba. Un turismo lento che sviluppi le potenzialità di accoglienza del nostro territorio e in particolare l'entroterra. E' quello che si prefigge di costruire il consorzio turistico una montagna di accoglienza nel parco coinvolgendo i proprietari di seconde case di immobili inutilizzati e di strutture ricettive. Il progetto sarà presentato domani pomeriggio alle 16.30 a Borzonasca nella sede del Parco dell'Aveto e nasce nell'ambito di tesori nascosti del Mediterraneo. L'incontro di mercoledì è rivolto principalmente ai proprietari di seconde case vuote o sottoutilizzate e situate nelle valli del Parco dell'Aveto e Limitrofe. La proposta è quella di mettere in rete gli immobili per alleggerire la loro gestione attraverso l'attivazione di un unico centro servizi che si occupi dell'accoglienza degli ospiti, della pulizia, delle manutenzioni, delle pratiche amministrative e degli interventi di riqualificazione. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e altri servizi. Il grande spariglio, così titola Avvenire, torna il nodo alleanze per Renzi e Berlusconi, Movimento 5 Stelle in calo, ma Grillo noi pronti a raggire, affluenza solo al 60% per le comunali, è sfida centro-sinistra e centro-destra nei ballottaggi, si riparla di regole elettorali maggioritarie. E una curiosità, Lampedusa senza conferma, la sindaca dell'accoglienza Giussi Nicolini è addirittura arrivata terza nelle elezioni del suo comune. Poi Macron vince in Francia, ma preoccupa l'astensione. Impegno per il clima, ma senza l'America, il G7 dell'ambiente a Bologna, vediamo all'interno di Avvenire, l'impegno per il clima va avanti senza gli Stati Uniti, postille americane sull'intesa al G7 ambiente. L'Italia ottiene la creazione a Roma, e di un centro sul sostegno allo sviluppo sostenibile. In Africa è un piano in cinque anni per l'efficienza nell'uso delle risorse cattolici in prima fila, nel dire addio alle fonti missile. Per i bond verdi l'obiettivo è 100 miliardi di finanza pulita. Veniamo al secolo XIX, chiave di sfida trilling, due lanti levaggi, convincerò gli astenuti di capo, ottimo inizio, questa è l'apertura del secolo nell'edizione naturalmente del Levante. strategie, Movimento 5 Stelle, Grillo dice ai partiti vi illudete, ma pensa ad un passo indietro. Ansaldo Energia, ecco la casa delle maxi turbine, nelle aree di Cornigliano, investimento da 65 milioni, venerdì l'inaugurazione. E poi a Lavagna, caso Andrangheta in comune, a giudizio Mondello e Sanguinetti. Dopo Manchester, l'appello ai ragazzi di Tiziano Ferro, con la musica fermiamo la paura. Nelle pagine interne del secolo XIX, per le elezioni a Chiaveri, il levaggio di capo ha così alla sfida finale, il sindaco uscente stacca rivali di 6,3 punti percentuali, giochi aperti in vista dei ballottaggi, Chiavari scioglierà il nodo il 25 giugno, Cama si ferma al 14,9%, Canepa al 10,5%, Giardini fuori dal Consiglio. E poi c'è l'interessante commento di Roberto Pettinaroli sulle elezioni chiavaresi, vince la continuità e il rifiuto dei partiti. Ancora dal secolo XIX, ci spostiamo in introterra, bentornato Limoncini via al terzo mandato, a Cicagna ieri il primo giorno del sindaco, consigli comunali fuori dal municipio, nelle frazioni, in sala giunta ad attenderlo uno striscione, la fascia tricolore per il giuramento, le chiavi del comune. Ed è un architetto, il più votato a Cicagna, siederà però all'opposizione, Enrico Queirolo, 74 preferenze, contento per me, meno per il risultato ottenuto dalla nostra lista. Ora per gli ultimi aggiornamenti, andiamo in redazione, dove è pronta Emmanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. La cronaca, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 230 grammi di hashish e di 105 euro. Per questo un 19enne è stato arrestato a Rapallo. Il ragazzo che ha già precedenti alle spalle è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare da parte dei carabinieri. Al termine della perquisizione è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È tutto lì nello studio. C'è tempo fino al 26 giugno per presentare domanda per partecipare alle selezioni dei progetti di servizio civile nazionale. A Rapallo ci sono quattro posti per due progetti nell'ambito dei servizi sociali. Il primo riguarda l'informa giovani, mentre il secondo prevede l'inserimento di due volontari nel nido di infanzia comunale. Possono partecipare alla selezione tutti i giovani in possesso dei requisiti previsti dal bando e che alla data della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. È possibile prendere visione del bando o scaricare la modulistica dal sito internet del Servizio Civile Nazionale ma anche dal sito del Comune di Rapallo. Ed è andata in scena nelle scorse settimane a Rapallo la stessa edizione della festa del volontariato, un appuntamento promosso dalla consulta del volontariato della città che comprende attualmente 32 associazioni. Un momento per dare visibilità alle diverse attività promosse dalle realtà del terzo settore. Vediamo. La consulta è aperta a tutte le associazioni, ai loro utenti, ai volontari e alla città per creare il benessere. La città ha bisogno di benessere e di gioia. 20 anni di attività sul territorio, 32 associazioni oggi rappresentate, servizi di consulenza gratuiti da quello fiscale fino a quello legale. Sono i numeri importanti della consulta del volontariato di Rapallo, la realtà attiva dal 1997 che si occupa di sostenere e dare slancio alle realtà che operano nel terzo settore nel Tiguglio occidentale. Un lavoro prezioso, la consulta in questo mandato qui ha sponsorizzato e sta governando parecchi progetti, tra cui il Buon Samaritano, che siamo stati uno dei primi comuni ad attuarlo. Dopodiché abbiamo altri progetti che facciamo con il polo scolastico dell'ICETI e non ultimo abbiamo ancora fatto e abbiamo in programma di mettere a disposizione i nostri uffici della sede della consulta delle professionalità dove si possono rivolgere tutte le nostre associazioni. Tra le manifestazioni più importanti nell'ottica di dare visibilità all'attività delle associazioni del terzo settore c'è da sei anni a questa parte la festa del volontariato andata in scena nelle scorse settimane sul lungomare Vittorio Veneto e che ha visto la partecipazione di quasi una cinquantina di realtà. Tra le attività che sono state proposte è anche un percorso da affrontare seduti in carrozzina, un modo per sperimentare in prima persona le difficoltà e gli ostacoli incontrati da chi ha bisogno di questo mezzo per muoversi nella vita di tutti i giorni. Abbiamo creato un circuito per far provare a chi vuole un gioco infatti si chiama Sembra Facile un gioco a pe, alla portata di tutti. Facciamo provare l'esperienza di fare un giro su questo percorso abbastanza semplice abbiamo creato due gincane e una curva in modo da far vedere far rendere visibile e provare soprattutto cosa significa vivere in carrozzina così le persone capiscono le nostre difficoltà quotidiane della vita. E alla festa del volontariato di Rapallo sarà dedicata la puntata di questa sera della rubrica Si può dare di più in onda alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Una raccolta di medicinali per la missione dell'associazione Music for Peace a Gaza la organizza il collettivo Gotto Rosso in collaborazione con il comitato Giovani di Rapallo per domani. Servono antinfiammatori, antidolorifici e antibiotici non si accetteranno altri materiali come vestiti, cibo e denaro. Il gazebo sarà allestito in piazza Cavour a Rapallo domani dalle 16 alle 19.30. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13 l'informazione torna questa sera a 19.15 con la prima edizione di Tguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.